E' stato aperto un bando ai primi di aprile che mette a disposizione 35 milioni di euro di fondi europei. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un bando legato alle politiche di coesione. Si tratta di un bando del cooperazione territoriale europea, del programma di cooperazione territoriale transnazionale Adrion, Adriatico Ionico, che mira a far cooperare amministrazioni pubbliche e privati di un'area che comprende tutta l'Italia orientale, la Slovenia, la Croazia e la Grecia come paesi dell'Unione europea, la Bosnia e Herzegovina, la Serbia, il Montenegro e l'Albania come paesi in via di adesione all'Unione europea. In quale ambito? Il bando, nello specifico, sarà aperto nell'ambito del turismo sostenibile e dell'ambiente. Ambiente inteso come protezione e prevenzione dalle calamità naturali e promozione dei valori ambientali nell'area. Quando scade il bando? Il bando, che è appunto aperto e in corso, scadrà il 26 di giugno e dovrà vedere coinvolti progetti che hanno partner di almeno un partner per ogni nazione europea, nell'Unione europea quindi Slovenia, Croazia, Grecia, Italia e almeno un partner di Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia e Degovina.